al pala manuali di osimo si affrontano per il girone l1 l8 il punti osimo il fuzza castelziardo l'arbitro del signor andrea monticelli non dimenticate di iscrivervi al nostro canale youtube per ricevere le notifiche sui nuovi video in classifica il fuzza castelziardo a 9 punti mentre il fuzza castelziardo a 7 punti sul fericoloso che il fuzza castelziardo e poi lo fa il palo clamoroso ancora il puttiosimo che manovra la palla arriva pallorini che si libera sulla sinistra la palla è cominciata dal fuzza la palla dentro però per ilopan che segna con questo bel diagonale il vantaggio sul puttiosimo ancora il puttiosimo recupera la palla con ilo va al destro termina fuori sulla sinistra per pallorini che si libera trova la poca inizia a farsi vedere destro e zappirolo con i piedi calcio diminuzione di frontini destro zappirolo alza sopra la traversa destra il gol che batte zappirolo il pareggio del fuzza castelziardo secondo tempo avanti il puttiosimo con il sinistro capogrosso con i punti palla al fuzza con il ragnino che perde palla focante va sul sinistro ed è in gol del vantaggio del puttiosimo con il focante cerca a subire la reazione il fuzza con Moschini che difende palla la palla a Ragnini il diagonale che sbatte giampirolo nel pareggio del futsal andiamo 2 a 2 si si perza e perde palla destro tiragnini e poi Moschini che non riesce a trovare la porta la palla riderelli sinistro cammino a lato fuzzale con Ragnini destro deviato da zampirolo il calcio d'angolo per il fuzza la palla frontini che prova la polema termina molto al lato e così lo panno che si gira il destro la traversa cambrosa del puttiosimo che all'occasione per vincere arriva il tifice fischio dell'arbitro Monticelli con il pareggio 2 a 2 l'arbitro Monticelli con il paese